La banda che assalta i distributori di benzina con le ruspe è tornata a colpire. Questa volta a finire sotto la scura dei malviventi il distributore dell'IP in strada a Montefeltro nel quartiere di Campanara a Pesaro. La metodica del furto è sempre la stessa, sono tutti furti uno la fotocopia dell'altro. Medesimo l'orario, stesso giorno della settimana e stessa tecnica. Verso le 3 del mattino vengono rubati una grossa pala meccanica, Caterpillar, da un cantiere vicino al distributore, un trattore agricolo che servirà per sbarrare la strada verso Pesaro assieme a dei grossi tronchi d'albero tagliati con la motosega messi dalla parte del casello d'autostrada in modo da isolare completamente l'area e permettere alla ruspa di devastare senza intralci il distributore sradicando le colonnine con gli accettatori di contanti per il rifornimento automatico della benzina. E la notte tra domenica ed il lunedì è il giorno in cui ci sono più contanti del resto della settimana, dato che l'ultimo prelievo venne eseguito il sabato mattino. All'ingresso del quartiere di Campanara hanno tentato anche di dar fuoco per coprirsi poi la fuga a dei grossi pneumatici bagnati di materiale infiammabile, ma la pioggia torrenziale ha impedito che prendessero fuoco completamente. L'azione è stata anche in questo caso fulminea di pochi minuti, anche perché l'allarme è scattato quasi immediatamente, ma il commando evidentemente conosce molto bene i tempi di intervento e puntualmente svanisce nel nulla prima che arrivino le forze dell'ordine lasciando dietro di sé solo distruzione e ingenti danni. Poco distante dal distributore di benzina, in un campo sono stati ritrovati dai carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto sia la palameccanica utilizzata che la colonnina del distributore sradicata dalla sua sede e forzata, ed i soldi, circa 6.000 euro, ma forse anche di più, che erano al suo interno scomparsi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria.